Seconda sconfitta consecutiva per il Bitonto che dopo il passo falso sul campo del Fasano cede le armi anche al non irresistibile Agropoli sul terreno di casa del Città degli Ulivi. Prestazione da rivedere quella della formazione allenata da Roberto Taurino che non riesce a recuperare lo svantaggio iniziale fallendo diverse chance durante l'arco della sfida. Pronti, via e l'Agropoli passa, Cozzolino si infila da sinistra nella difesa di casa e lascia partire un fendente che non lascia scampo a figliola. Bitonto colpito a freddo che tenta la reazione immediata. Al settimo il pallonetto di Mercai dal limite termina alto sopra la traversa. Due minuti più tardi Biasson serve paterno in aria. Il destro a botta sicura dell'ariete nero-verde è deviato in angolo da un miracoloso intervento di Sanchez. Con il passare dei minuti si attenua la spinta del Bitonto che non riesce a sfondare il muro eretto dalla difesa campana. Al trentaseiesimo episodio molto dubbio in area ospite, Gagliardi trova la rete del pareggio ma il direttore di gara, il signor Delli Carpini della sezione di Sernia, annulla per un dubbio fuorigioco. In pieno recupero la palla buona per l'1-1 capita sulla testa di Mercai ma Sanchez si supera nuovamente salve il risultato all'intervallo e Agropoli avanti 1-0. Nella ripresa il tema della gara è sempre lo stesso, Bitonto in avanti alla ricerca del pareggio e Agropoli tutto rintanato in difesa. Al quarantottesimo la rassogliata in corsa di Patierno dalla destra termina di poco fuori, poi allo stesso Patierno lanciato in profondità al sessantunesimo a centrare in pieno il palo con un potente destro. Si capisce che non è giornata per la squadra di Taurino che al settantesimo va nuovamente vicino alla rete con il tiro di Biasson sugli sviluppi di un corner, la palla termina di un nulla al lato. Nel finale la stanchezza non permette ai neroverdi di attaccare con lucidità. All'ottantesimo nuove proteste Bitontine per la seconda rete di giornata annullata a Patierno per fuorigioco. All'ottantasettesimo la conclusione di Biasson dal limite coglie solo l'esterno della rete. E' l'ultima occasione per il Bitonto nonostante i cinque minuti di recupero e l'Agropoli a far festa per il primo successo stagionale. I neroverdi dovranno necessariamente tornare a far punti domenica prossima sul campo della Nocerina per scacciare ombre e tornare nei piani alti della classifica.